scegli russo o inglese? inglese, proprio! FINANCE WITH FROGGY! FAIL TASTE CHE BECAME HORROR! CREATO DALA GKEB PRODUCTION! Cazzo sta succede? No, no, no! Ah, devo continuare! No, devo continuare veramente! FINANCE WITH FROGGY! Eh, oddio mio, che cos'è questo? Oddio, credo che sia FROGGY! Sì, andiamo nello SHOP! Ah, NEW CAMERA, VANDALAID, COME SI FA? LIKTER? Vabbè, ma io non conosco ste cose! INPOSTAZIONI! No, no, non voglio! Ah, se si devono salvare i progressi! No, io volevo andare su... No, vibrazioni non lo voglio manco fare, credi? No, STATO GAME! Che cos'è sto gioco? Che cos'è? Ma che car... ONS IN PRAG, una volta in PRAG, cos'è? In una città? Ah, si può saltare alla scena! In un'area residenziale del PRAG? Ah... Oddio, ma c'è anche una storia! Ah, lui ha comprato un nuovo appartamento da dove vivere! Ah... Ah! Oddio, sarà come i FNAF che bisogna trovare un lavoro? Sì! Sì, 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 sì! Proprio, sai, proprio, proprio, proprio quello che pensavo! Proprio quello che pensavo! Ecco il parcheggio! Ah, questa è casa... Ah, quindi bisogna sopravvivere in sti posti qua! Dove stiamo andando, poi? Dove stiamo andando? D'altro non sentite l'audio perché sto utilizzando le cuffie! Dall'altro! Vi dico questa cosa! Sì, ma si può... Fai sui froggy! Sì, ma voglio giocare... Sì, c'è anche... Ah, si può schippare! Sì, però non voglio schippare! Però mi sta annoiando! Oddio, Jamske! Jamske! No! Oddio, ma quanto... Quanto finisce? Oddio, ma chi sono questi? Cosa? Cosa ho fatto? Oh, no! Si è crash... Lui... Che cosa... Non ho capito! Non ho capito in che senso? Ah, ha fatto tipo un incidente! Ah, ok! Questo è il direttore! Ah, bisogna sopravvivere in queste... Ma se non so questo è il protagonista? No, 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 no! No, zio! No, zio! Oddio, notte 1! Notte 1! Notte 1! Come si fa a sopravvivere sto gioco? Oh, no! Che cos'è? Cos'è? Oh! Oh! Buongiorno ancora, Thomas! Ti ho detto che io ti chiamerò all'inizio della notte! Sì! Praticamente sì! Scusa per... Non se non ti ho risposto... Ci sono un sacco di cose che dovrei dirti! E devi prendere dalle tue responsabilità! Eh... Benvenuti... Come... Ok! Questo è Royal Garden! È un bellissimo posto! Eh... Ok, ok, ok! Questo ho capito! Eh... Scusa! Io sono distratto! Eh... Sto... Questi è una... Ah! Sto facendo domande ai visitatori! Ok! Eh... Allora! Ascolto attenzialmente... In questo microfono! Allora! Questa axia si è rotta! E abbiamo riprezzato... E... Non l'abbiamo riprezzato! Se quindi nel write... Devi connettere al sistema di ventilazione! Devi tenere occhi un territorio! Che nessuno ci deve... Entrare! In questo giardino! Oh mio mio! No! No! Mi dire che... Oddio! No! 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 Oh no! Mappa! Ma quanta ma... Ma è impossibile sta mappa! Ma... Ma raga ma... Dove sono io? Ah ma... Ah! Io sono... Qui ci sono i vandali! Ma io non ho capito come si fa! Raga! Non ho capito! Non ho capito! Siamo... Ah! Questo posto è abitato nel 2004! Che sta succedendo? No! Che è? Cicpots! No! No! C'è più Cicpots a caricare! Ok! Basta soltanto che nessuno si muove! L'altro... Che devo fare con quest'allarme? Io non ho capito! Ah! Sì! Vabbè! Ma mi lagga un sacco con la Night Vision! Mi lagga un sacco! Ma che cazzo! Ma che cazzo! Chi è? Messaggio da Lorenzi! Ti ho dimenticato! Non me ne frega! Oddio mio! Si era sluggato! Si sta laggando tutto! Allora! Bisogna farli stare questi! Oh no! Cazzo è successo! Oh no! Cazzo è successo! No! Allora! Allora! Calmi tutti! Ti ho dimenticato di dirti! Che c'è una lampada! Ah! Ah! Questo non farà male! Ho dimenticato di dirti che cosa! Ah! C'è dell'olio! Vabbè! No! Sei scomparso! È scomparso! È scomparso! Chi è scomparso? Chi è scomparso? No! Io devo usare l'allarme perché è l'unico modo... È l'unico modo per sapere dove sta! Sì ma è impossibile dove sta! Ma io non ho né porte! Né luci! Né niente! Ma come farò a vincere sto gioco? Non ho niente! Ma quello non sa come è di una persona! No! Perché... Io ho già paura! Ah! Ok! Questo è il giardino! Raga! Ma c'è un tizio qua! Non lo trovo! Lo faccio attivare! Ma sei andato là! Sei andato la rana! Happy frog! Ma... Ah! È vero che devo controllare anche da qui! Ah! Che cazzo! Ah! Sta qua! Usa l'allarme qualcosa! Usa l'allarme! Segnale! Segnale antigendio! Ecco! Adesso devo fare il music box! Devo caricare! Devo caricare il music box! Perché è l'unico modo! Non ho capito che devo fare! Ma io non ho capito! Che devo fare? Allora! Prima cosa! Disattiva l'allarme! No! Si è andato! Dove è andato? Allora! Lui è andato! Allora! La camera! Non c'è nulla! Ah! Ma qui... Qui c'è qualcuno di invisibile! C'è qualcuno invisibile? Oh! No! Ok! Questa è casa... Questa non è casa nostra! Vero? Questa non è da noi! È una rana! Ah! Merda! Allarme! Allarme! Segnale! Segnala tutto! Segnala tutto! Segnala! 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 No! No! Sono morto! Bene! Thomas! Io credo che... Che sta succedendo? Sei stato licenziato! Cosa? Livello non completato! Estras! Come... C'è l'estra! Galleria! Game! Giochi nella serie! Oddio! C'è anche il 2! No! Non ci vado! Non abbiamo i soldi e i requisiti per questo! Galleria! Ah! Sono fan art queste! Ah! Bello! Va bene ragazzi! Questo era... Finalsy with Froggy! Spero che questo video vi sia piaciuto! Lasciate un commento e un mi piace! E ci vediamo nel prossimo video! Ciao!